Scusa, cosa ha fatto il papà? Il papà? Ti sta bene? No! Non è vero! Capito papà? Non si dice mai questa parola alla mattina, poverina è! Ok? Non lo dire mai più alla mattina! Non si sta bene? Non si dice questa parola! È una brutta parolaccia! Se gli ha detto che ti sta bene perché fa sempre quello che non deve fare noi la sgridiamo e poi prima si è fatta male Allora papà gli ha risposto che ti sta bene Cosa? Non gli sta perché lei è piccolina ancora Capito? Quindi cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo sgridarla? No, sì Però ogni tanto lei fa la mammella Però adesso non gli sta bene perché lei è caduta e non ha vinto E loro non dovete grigare per nulla Ok Ti è dispiaciuto? Eh no però mi sono arrabbiato Per voi Per voi due Tengo docchi di Tengo... No 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 No